Poracci, bentornati o benvenu- Scusate, rispondo al volo. Pronto? Super Mario 3D World è dietro l'angolo e so che molti di voi si staranno chiedendo se vale la pena acquistare questa riedizione del gioco uscito su Wii U, soprattutto se si è già giocato alla versione originale. Fortunatamente stanno uscendo le prime anteprime del gioco e ho deciso di raccogliere tutte le differenze apportate su Switch, almeno quelle emerse fino ad ora, dalle più minuscole a quelle più macroscopiche, come ad esempio il funzionamento di Bowser's Fury. Prima di iniziare vi invito, come al solito, a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete tra i pochissimi che ancora non l'hanno fatto. E oltre a seguirmi su tutti i social, se volete supportare il mio lavoro potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-Fi, luogo dove tra l'altro ho posto le versioni HD dei meme che tanto vi piacciono. Detto questo, iniziamo! Partiamo dalle differenze più sottili, di cui magari non tutti sono a conoscenza, per poi andare ad analizzare nel dettaglio tutte le informazioni che si possono ricavare a proposito di Bowser's Fury. La user interface ha subito dei leggeri aggiustamenti, icone scritte su schermo, oltre ad avere una risoluzione maggiore, sono state anche leggermente riposizionate per occupare in modo più intelligente la superficie dello schermo. Ovviamente poi tutte le indicazioni dei tasti da premere sono state cambiate per rimandare i sistemi di controllo della Switch. A livello grafico, queste sono le uniche migliorie, oltre ad una risoluzione nativa dell'immagine di gioco aumentata, seppure non siano stati diffusi i dati ufficiali sulle prestazioni del gioco in handled e in modalità fissa. Insomma, si tratta di un porting che per quanto riguarda gli aggiustamenti grafici è in linea con quanto visto con gli altri titoli portati da Wii U sulla console ibrida. Ci sono però delle differenze sostanziali a proposito del gameplay, che è stato aggiustato sia per funzionare al meglio su Switch, sia per offrire un'esperienza ottimizzata a prescindere dalla piattaforma. Di base sono state eliminate alcune azioni marginali come il soffiare nel microfono o del padone per attivare delle piattaforme, e nel caso si giocasse in modalità fissa, le funzioni che fanno affidamento sul touchscreen in portatile cedono il posto a un sistema leggermente più macchinoso. Schiacciando il tasto R, infatti, apparirà su schermo un puntatore controllabile tramite giroscopio necessario per utilizzare determinati elementi. Una feature che ritorna anche in Bowser's Fury per indicare a Bowser Jr. specifici oggetti con cui interagire. Mettendo a confronto le due versioni salta subito all'occhio come la velocità dei personaggi sia stata aumentata significativamente rispetto all'edizione su Wii U. Si tratta di un incremento globale che lascia intatte le differenze tra i protagonisti, che conservano le proprie abilità specifiche. Ad essere alterato è proprio il ritmo generale del gioco, ora molto più frenetico. Un cambiamento più sottile e ancora non esplorato a fondo è il differente posizionamento di alcune telecamere virtuali, se secondo molti giornalisti rende più chiaro lo svolgimento dell'azione in alcuni frangenti, anche se non si tratta di una differenza abissale. Nell'ottica di un gameplay modificato per rendere 3D World più fluido e immediato, ci sono anche delle differenze a livello contenutistico e non solo. La super campanella, il power-up introdotto in questo episodio che consente di trasformare i personaggi nella loro versione gatto, ha subito un leggero aggiustamento. Infatti la capacità di arrampicarsi di Mario e compagni è stata estesa leggermente nella durata, consentendo di raggiungere con più facilità zone poste particolarmente in alto. Inoltre, tramite gli amiibo, è stata introdotta una variante della campanella che permette di trasformarsi in un gatto bianco, ovvero un gatto invincibile. Tornano anche i timbri, i collezionabili nascosti all'interno dei livelli, ma questa volta non sono più associati al Miiverse, ma sono integrati all'interno del nuovo Photo Mode, una modalità fotografica presa pari pari da quella vista in Super Mario Odyssey. Al momento, numero e posizionamento nei timbri sembra essere lo stesso nella versione originale. 3D World era un gioco incentrato sul multiplayer, che consentiva fino a un massimo di 4 giocatori di completare i livelli della campagna principale, mentre questi si sfidavano a chi aveva il punteggio più alto. Una feature che ovviamente fa il suo ritorno, ma anche qui si presenta con delle sostanziali differenze. Il multigiocatore è stato arricchito con svariate possibilità di configurazione. La co-op locale infatti prevede anche l'utilizzo della comunicazione wireless per prendere parte ad una sola partita da più console presenti nelle vicinanze, oltre che al classico sistema multigiocatore su un unico sistema. La novità più significativa però risiede nella presenza del multiplayer online, di cui però purtroppo per ora arrivano delle testimonianze non allineate al 100% sulla qualità del netcode. Sembra infatti che appena il segnale di uno dei giocatori non sia ottimale, la partita ne risenta pesantemente, inficiando la godibilità del multiplayer per tutti gli utenti, uno scenario che non è poi tanto diverso da quanto ci ha abituato Nintendo su Switch. Per finire poi, anche i livelli bonus di Captain Toad, da cui poi è stato tratto il gioco arrivato anche su Switch, sono giocabili fino a 4 giocatori. E ora passiamo a Bowser's Fury. Le anteprime si concentrano soltanto sulla prima micro sezione di gioco, quindi mancano ancora molte informazioni importanti, come l'estensione della nuova mappa e sulla durata complessiva dell'espansione, ma intanto possiamo farci un'idea sul funzionamento dell'add-on. Come ipotizzato dai precedenti trailer, con Bowser's Fury avremo un approccio molto più free-roam ai livelli, in una struttura che ricorda i sandbox tipici dei Mario 3D, come Super Mario 64 o il più recente Odyssey. L'obiettivo è quello di sbloccare le giga campane e per farlo bisognerà collezionare il numero indicato di sole gatto, un totale diverso per ogni zona. La campana permetterà a Mario di trasformarsi in giga Mario gatto e affrontare così Bowser Furioso ad armi pari. I sole gatti sono sparsi per la mappa di gioco e per essere ottenuti richiedono di completare svariati obiettivi, come raggiungere la cima di una torre o magari sconfiggere il temibile Luigi Ombra. Inoltre, quelle medaglie gatto viste in precedenza a quanto pare sono dei frammenti di sole gatto e una volta collezionato un determinato numero si trasformeranno in un collezionabile a tutti gli effetti. È chiaro che la struttura open world presenterà più sole gatti di quanti necessari per attivare le campane, quindi sarà al giocatore decidere l'ordine di progressione nei livelli, ma è ancora da capire se ci saranno dei bonus nel prendere tutti i collezionabili, anche quelli in eccesso. Per quanto riguarda Bowser Jr., è stato confermato che l'aiutante potrà essere utilizzato sia da un secondo giocatore, sia come personaggio gestito dalla CPU. Si potrà scegliere infatti se attivarlo o meno e decidere anche il suo livello di partecipazione all'interno della partita e quanto questo aiuterà Mario sia nell'esplorazione, sia nel combattimento. E queste erano tutte le informazioni che per il momento sono immerse dalle anteprime di Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Che dire, poracci, è chiaro che si tratta di una redizione pensata per chi non ha mai giocato all'originale e considerando i dati di vendita della sfortunatissima Wii U direi che gran parte dell'utenza Switch non si è mai approcciata al titolo. Molte differenze potranno essere apprezzate solo da chi ha un ricordo ancora chiaro del gameplay originale, mentre tutti gli altri si ritroveranno di fronte a un titolo ottimizzato nella sua forma migliore che merita di essere riscoperto a prescindere. L'aggiunta di Bowser's Fury e del multiplayer online potrebbero rappresentare per molti utenti un motivo più che valido per ritornare su un'avventura tutto sommato recente. E credo proprio che queste anteprime siano degli ottimi incentivi per acquistare il titolo anche a chi ha già giocato 3D World su Wii U. Io nel dubbio vi lascio il link per l'acquisto in descrizione e se siete dei veri gamer poracci vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram delle offerte poracce, dove al suo interno ogni giorno segnaliamo le migliori offerte che appaiono su Amazon. Mi raccomando, seguitemi su YouTube e su tutti i social e se volete supportare il canale con un piccolo gesto magari prendete in considerazione l'idea di regalarmi un caffè virtuale su Ko-fi. Vi lascio il link in descrizione e detto questo non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Bowser, Michele Fiori, ciao! 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 Ciao!